se vi piace il mare è molto probabile che almeno una volta nella vita siate stati a bordo di un gommone e se vi siete divertiti beh allora era un bel gommone questo è il caiman sport touring 23 di ranieri international e anche se oggi sarò io a navigarci sono sicuro che vi divertirete anche voi perché beh perché questo è the boat show quindi cominciamo a conoscerlo lunghezza fuori tutto 7 metri e 10 centimetri larghezza al baglio massimo con i tubolari gonfi 2 metri e 80 disloca vuoto senza motore 750 kg può trasportare 205 litri di carburante e opzionali 45 di acqua dolce la riserva di galleggiamento è suddivisa in 5 compartimenti e a bordo possono essere imbarcate al massimo 16 persone compreso l'armatore questa nuova versione del battello pneumatico firmato ranieri international è la conseguenza naturale di quelle che sono state le novità già lanciate dal cantiere nel 2020 riguardo al refitting di alcuni modelli sport la versione touring però concede la possibilità di una maggior vivibilità a bordo rispetto alla sola versione sport grazie al cassero più grande che concede una minima abitabilità ed allestibile con un wc elettrico l'area poppiera è caratterizzata da due plancette con scaletta bagno sul lato di sinistra una seduta in pelle fronte marcia che lascia sempre sullo stesso l'accesso dall'acqua al pozzetto e un tavolo a ribalta fissato sulla struttura della seduta di pilotaggio certo non è un maxi riba anzi è uno dei battelli più piccoli che propone ranieri international ma le rifiniture sono quelle di un cantiere attento ad ogni dettaglio strutturale certo ma anche di stile la seduta di timoneria è una delle innovazioni che si trova già nella nuova gamma sport comoda per la conduzione da seduti ed ergonomica appoggiareni se si preferisce pilotare da in piedi qui sotto due gavoni per lo storage uno nel cassero e uno nel modulo della seduta di pilotaggio che su richiesta può diventare anche l'alloggiamento del frigorifero a cassetto il prendisole nella zona prodiera nasconde un altro gavone incontrostampata altro spazio per lo storage e di fronte prua via al cassero una piccola seduta fronte marcia sul vertice prodiero il verricello elettrico e il vano di ispezione è comodo ed accessibile in ogni situazione la chiglia e la coperta in vetro resina sono laminate a mano e fuse insieme tramite un sistema particolare di ranieri international si chiama csa ovvero cockpit shock absorber cosa significa significa che il materiale che incolla le due parti è un materiale elastico che assorbe le vibrazioni e non le trasmette quindi alla coperta questo cosa comporta comporta una navigabilità maggiore anche con mare formato il disegno di carena non presente classici redan che ormai sono presenti in quasi tutti i modelli di ranieri però ha un angolo veramente accentuato pensate che questa carena ha un dead rise di 21 gradi questo significa che è molto profonda e che è adatta a navigare su qualsiasi tipo di mare beh non si può dire che oggi il mare sia mossa effettivamente però è nervoso ed è una delle situazioni migliori per testare questo tipo di carene il gommone esce in planata già a 10 nodi e dietro ci abbiamo 175 cavalli firmati suzuki un buon compromesso pensando che il minimo per questo battello sono 100 cavalli il massimo 250 una buona velocità di crociera intorno ai 20 nodi 3500 giri minuto il gommone trova il suo assetto tira giù la prua forse un po troppo allora possiamo alzarla col trim forse perché c'è i nicli davanti però quello che succede è meraviglioso ovvero la prua certo va in acqua divide le acque e apre le onde è quello che dovrebbe fare una buona carena perché sbattere sull'onda non è una cosa positiva non ci dà il comfort alla guida mentre invece così la sensazione al timone è quella di una carena morbida che ci dà affidabilità anche con onda 4000 giri minuto siamo a 25 nodi è il momento di vedere come si comporta in virata ecco il tubolare comincia subito a fare il suo lavoro ovvero quello di sostentare la virata il gommone non si piega estremamente rimbalza sull'acqua ma è giusto che sia così e se da una parte il tubolare tira su dall'altra parte la chiglia si pianta nell'acqua e dà una stabilità incredibile alla virata adesso però è arrivato il momento che preferisco e normalmente per arrivare a toccare la velocità di punta di un battello cosa dovrei fare? beh mettermi col mare in poppa dare tutto gas e giocare col trim però vi ho detto che ha una carena super profonda che può navigare sul mare formato non ha paura delle onde e poi vi ho anche detto del sistema di assorbimento degli urti e quindi beh quindi adesso questo gommone noi lo proveremo davvero nelle condizioni peggiori mare in prua e gas tutto aperto 4.700 giri minuto 30 nodi il cantiere dice che questo gommone può arrivare tranquillamente a superare i 35 nodi beh allora io come sempre oggi ho due obiettivi il primo raggiungerli e il secondo è superarli cominciamo ad alzare il trim 4.900 giri minuto 5.000 giri minuto siamo arrivati a 31 nodi lavoriamo ancora con il trim il gommone diventa leggerissimo più tiro sul trim più lo scafo si alza e i tubolari si staccano dall'acqua c'è meno attrito il gommone naturalmente certo palla di più ma vola 5.250 giri minuto stiamo facendo 35 nodi primo obiettivo raggiunto arriviamo al limite massimo del trim 5.400 giri minuto abbiamo toccato i 36 nodi punto uno e quindi qual è il fine di un gommone beh nella sua semplicità è quello di far godere al massimo e nel miglior modo possibile la bellezza del mare e a voi non vi è venuta voglia di provarlo a voi non vi è venuta voglia di provarlo Grazie.